Ci sono due date da cerchiare sul calendario, l'11 giugno e il 18 dello stesso mese. Sono scadenze importanti per conoscere il futuro della pallavolo italiana e pugliese nello specifico, perché nel primo caso si potrà decidere se cedere il titolo sportivo ad altra città, nel secondo bisognerà formalizzare l'iscrizione alla prossima Superlega. La novità della prossima stagione è non più basata sulla formula della promozione e retrocessione, ma sul rispetto di tre parametri, risultati, rispetto degli impegni economici e affluenza di pubblico. Alla Superlega non dovrebbe mancare l'ex privia Molfetta, nonostante i tempi ristretti e il budget ritoccato verso il basso. La squadra di fatto verrà ricostruita per ridurre i costi di gestione, puntando su giovani che hanno voglia di mettersi in evidenza nel massimo campionato di pallavolo, uno dei più seguiti anche nel resto del mondo. Emergente sarà anche il tecnico che verrà individuato per sostituire qua a mano il Cichello e molto si attingerà dai vivai delle big della Serie A. Operazione necessaria, a giudizio dei dirigenti della pallavolo Molfetta, per garantire la presenza della società biancorossa in Serie A1. Certo, a Molfetta si tiene d'occhio anche la possibilità di dover intraprendere il piano B che possa prevedere una ripartenza dalla A2. Ipotesi remota a sentire e leggere le dichiarazioni dei massimi dirigenti della società molfettese, pronti a garantire la presenza della squadra in Serie A1. Intanto un pizzico del Molfetta recente veste d'azzurro nella World League che fa tappa a Bari. Sabbi e Saitta sono con la nazionale che affronterà venerdì la Polonia, anche se non fanno parte del gruppo di convocati. Antipasto del Mondiale, quello femminile però, che sempre a Bari vedrà la disputa di un girone di qualificazione nel prossimo mese di settembre.